amici vi porto nel meraviglioso mondo fassina vetture aziendali nuove usate km 0 questo è posto giusto in via grassi 98 al car village mitsubishi outlander motore ibrido con cambio automatico 4x4 vettura con il 1.800 da 121 cavalli 14.000 chilometri percorsi stra full optional 31.600 euro volvo v60 business plus 2.000 turbodiesel 150 cavalli soli i 20.000 chilometri percorsi full optional 28.900 euro volvo xc40 gear tronic business plus con trazione integrale vettura con il 2.000 turbodiesel 150 cavalli soli 30.000 chilometri percorsi garanzia ufficiale volvo 32.500 euro jeep gran cero kyoverland 3.000 multijet 250 cavalli soli 27.000 chilometri percorsi full optional cambio automatico trazione integrale 42.900 euro aston martin db 11 coupé con il 5.200 v 12 da 639 cavalli vettura che ha percorso solo 1.600 chilometri full optional il prezzo 179.000 euro fiat talento combi portata 12 quintali 1.600 multijet 120 cavalli 23.160 chilometri i percorsi 16.900 euro renault clio live 5 porte con i 1.200 benzina 75 cavalli con climatizzatore vernice metallizzata garanzia 12 mesi 6.200 euro renault scenic intense 1.500 turbodiesel 110 cavalli full optional con cerchi in lega vernice bicolore radio con bluetooth sensori parcheggio 14.900 euro citroen c4 gran picasso exclusive 2.000 turbodiesel 150 cavalli soli 79.000 chilometri percorsi garanzia 12 mesi 13.900 euro smart for two passion coupé con i 1.000 benzina 70.000 chilometri percorsi climatizzatore radio navigatore fare fendi nebbia cerchi in lega 6.200 euro peugeot 208 allure vettura con 1.400 benzina 95 cavalli ma con impianto gpl vettura garantita 12 mesi 7.400 euro alfa romeo stelvio veloce at8 q4 con il 2002 turbodiesel 210 cavalli vettura full optional trazione integrale cambio automatico 48.800 euro renault scenic live 1.500 turbodiesel 110 cavalli cerchi in lega clima automatico radio bluetooth navigatore satellitare 9.800 euro alfa romeo stelvio executive q4 2002 turbodiesel 210 cavalli 29.000 chilometri percorsi full optional al 37.900 euro alfa romeo stelvio veloce q4 con il 2.000 benzina 280 cavalli un vero portento 4x4 automatica 48.800 euro alfa romeo mito distinctive con i 1.400 multi air da 135 cavalli vettura con climatizzatore sensori parcheggio venice metallizzate soprattutto cambio automatico 7.200 euro alfa romeo giulia super 2002 turbodiesel 180 cavalli cambio automatico full optional 35.200 euro con chilometri zero alfa romeo giulietta distinctive con il 2.000 turbodiesel jtdm 170 cavalli vettura garantita 24 mesi con cambio automatico 12.200 euro alfa romeo giulietta super 1.600 jtdm 120 cavalli soli 6.800 chilometri percorsi radio bluetooth fendi nebbia clima vernici metallizzata navigatore da 6 pollici e mezzo soprattutto cambio automatico 18.200 euro fiat 500 l urban 1.300 multi jet 95 cavalli soli 19.000 chilometri percorsi cruise control climatizzatore 13.900 euro fiat tipo station wagon lounge 1.600 multijet 120 cavalli soli 14.000 chilometri percorsi sensori parcheggio climatizzatore vernice metallizzata 13.800 euro fiat tipo 5 porte business 1.600 multijet 120 cavalli garanzia 12 mesi radio bluetooth sensori parcheggio posteriore 10.900 euro jeep renegade limited 2.000 multijet 140 cavalli vettura con cruise control navigatore tetto apribile vernice metallizzata climatizzatore automatico cambio automatico trazione integrale 16.900 euro fiat 500 x sport 1.000 turbo 120 cavalli non ha percorso strada smartphone mirroring sensori parcheggio anteriore e posteriori retrocamera il prezzo 20.900 euro jeep renegade longitude 1.600 multijet 120 cavalli vettura con 19.000 chilometri all'attivo vernice metallizzata cerchi lega fendi nebbia bluetooth sensori parcheggio cambio automatico 19.800 euro fiat 500 x urban look 1.000 turbo 120 cavalli vernice metallizzata retrocamera lane assist sensori parcheggio smartphone mirroring vettura a chilometri 0 18.500 euro fiat panda lounge 1.200 benzina 70 cavalli 8.384 chilometri all'attivo fare fendi nebbia climatizzatore sensori parcheggio 10.400 euro jeep compass limited 1.600 multijet da 120 cavalli vettura che non ha percorso strada con navigatore con monitor da 8 pollice 4 bluetooth cerchi in lega da 18 sensori parcheggio 27.900 euro jeep compass longitude 1.600 multijet 120 cavalli vettura con navigatore satellitare vernice metallizzata e sedili in pelle tessuto 29.000 chilometri percorsi 12 mesi di garanzia 21.800 euro fantastica fiat panda city cross allestimento trussardi con motorizzazione ibrida vettura che non ha percorso strada climatizzatore radio dab cerchi in lega fare fendi nebbia barre sul tetto bluetooth 13.800 euro vi ricordo ibrida lancia y gold 1.200 benzina 8.800 chilometri percorsi radio monitor da 5 pollici bluetooth quinto posto sensori parcheggio 11.600 euro caro vecchio cinquino eccola qui 500 lounge easy power con motorizzazione alimentazione gpl 1.200 benzina vettura che non ha percorso strada radio monitor a 7 pollici climatizzatore vernice metallizzata smartphone mirroring e cerchi lega 14.400 euro fiat 500 c lounge a 1.200 benzina con il cambio automatico ha percorso solo 9.200 chilometri vernice metallizzata cerchi lega cruise control sensori parcheggio clima ruota di scorte smartphone mirroring il tutto a 13.900 euro colore straordinario per questa 500 lounge easy power anche lei con alimentazione gpl 1.200 benzina chilometri zero radio monitor a 7 pollici bluetooth e climatizzatore il prezzo 14.400 euro e questa non è uno spettacolo avar 595 scorpione oro 1.400 165 cavalli vernice metallizzata smartphone mirroring cerchi in lega clima automatico navigatore satellitare sensori parcheggio e poi tanta tanta grinta questa vettura che non ha percorso strada 24.800 euro hyundai kona x possible 1000 con 120 cavalli 41.000 chilometri percorsi radio bluetooth con sensori parcheggio cerchi in lega clima automatico vernice metallizzata retrocamera a 14.900 euro bmw 420d 2000 turbodiesel 184 cavalli e cabrio coupé m sport garanzia 12 mesi full optional 25.800 euro con cambio automatico bmw 318d touring sport 2000 turbodiesel 150 cavalli con navigatore clima automatico cerchi in lega bluetooth 16.900 euro avete visto che roba che assortimento che qualità garantisce fassina vi aspettiamo in via grassi 98 qui nello showroom di milano in via rona 15 di ciii